ben tornati nel mio canale eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare solo tutto di massimo pericolo che dire di lui è uno dei pochissimi rapper italiani che ancora mi piace addirittura nel periodo pre shalasemper e shalasemper compreso ci stavo totalmente in fissa ma anche lui negli ultimi due anni più o meno si è perso tutti i fit che ho sentito almeno gran parte non mi sono sembrati niente di che e sinceramente anche per questo album non ho tantissimo high perché la tracklist non me ne ha messo comunque senza pregiudizi partiamo con la prima traccia a casa nuova fit venerus quanto è difficile scrivere il secondo di che bello il soprattutto se col primo diventi ricco sono il miglio del momento detto ma è facile in questo momento esserlo in italia moda droga gli ho detto no e ho comprato casa nuova mi dicono che dentro ho fatto quattro mesi vorrei vedere li facessero sti quattro scemi la vita è una puttana e non mi amo a me venerus non piace comunque ragazzi allora quest'intro sarò sincero mi ha messo un bel po di hype perché non me l'aspettavo è figa bella la produzione bello tutto il mood di venerus onestamente potevo farne a meno non dico che non sia un buon artista ma la sua wave non mi interessa poi sinceramente non mi sembra neanche che dia quel qualcosa in più alla traccia però vabbè un mio parere personale comunque figo io partirei non partirei siamo già partiti andrei avanti con la seconda canzone che è debiti a che serve l'amore senza una droga a che serve la droga la prima volta a me a che serve la fama senza rispetto a ridare a chi c'è stato pure nei momenti brutti ma tutti mi hanno aiutato e non riesco aiutare tutti però ci sono anch'io anche stasera esco ma mi chiamo un esco ortanto se vado a letto dopo non mi addormento a punchline fa sempre forte macchine tedesche pusher italiani cielo con bebo franco marco pietra all'antipasto siamo già ubriati la vita è bella finché scopi i fumi e bevi quindi vivi come vuoi che tanto mori quando devi ok non mi ha fatto impazzire particolarmente però ci sta il ritornello non mi è piaciuto sempre se era un ritornello perché non l'ho ben capito le strofe meglio però fino adesso tutto a posto quindi non mi lamento terza traccia letteralmente cazzo culo fit salmo il sample mi sembra un po' nelle cioppa non ho capito il mix mi fa cagare altamente ma che cazzo vuol dire a me sicuramente no allora l'altro giorno leggevo un commento di uno che diceva salmo sta facendo la stessa strofa da mm4 in poi cazzo se è vero ogni volta che mi ritrovo ad ascoltare contro mia volontà una strofa di salmo sembra di sentire la stessa identica roba poi posso dire una cosa non ho mai visto da nessun'altra parte tutti questi rapper incazzati con chi fa reaction c'è letteralmente per quale cazzo di motivo poi è magari ho ascoltato canzoni americani in cui dissavano chi faceva reaction e manco me ne sono accorto ma ve lo giuro che in italia sta roba la vivono proprio male cioè ma che cazzo di problemi avete il mix di massimo da quasi fastidio anzi senza quasi salmo fa un'altra strofe inutile quindi per me è schippabilissima quarta traccia sei solo scopare se mi lasci stacci di merda la tua figa è sempre più fredda morire non mi spaventare il beat è simbolo mi stessa ho provato a cambiare e ho mandato tutto a puttare e ho mandato tutto a puttare quando quello ha fatto l'infarto e io auguro che muoia sua madre ma troia non sai quanto sto male sei solo scopare mi stanno preso i grammi e la grammatica bitch per due anni con la tuta da ginnastica domani mi alzo presto però mi scazzo a letto bello flow anche il titolo di questa canzone non è che mi ispirasse più di tanto però è figa cioè ci sta forse una seconda volta me la riascolterei è bello il beat che mi ha dato un sacco le vibe tipo degli irlandesi no quelli con la gonna che si mettono a suonare mille flauti non mi viene il nome non so come si chiamano comunque figo anche le strofe non sono male il ritornello ci sta promossa la canzone passiamo a air force fit madame e mi alzo all'albo abbriaco sull'altalene per stavolta il mio problema più grande vari svecchie di masso che toritelli dimmi il tuo nome e io ti dirò il mio in questo trono al posto tu mi sposto io lei ci seguiva ma ora no vuole scappare come me come ci penso c'è una mamma diversa ma la realtà è la stessa mi dà le vibes di Totoro bella non me lo sarei aspettato perché madame non mi piace onestamente so che molti di voi diranno oh ma come madame però non è proprio la roba che piace a me quindi non me l'ascolto infatti non ho fatto neanche la reaction all'album sono contento però che abbia fatto solo il ritornello perché ci sta a me la sua voce francamente non piace per il resto Massimo invece molto molto bravo mi ha dato un sacco le vibes tipo dei pezzi vecchi che faceva quindi ci sta anche questa traccia traccia numero 6 G oh valo pure qua il flow oh bella anche questa devo dire che fino a adesso non è che non fai la spia metti la tutta del real non vuol dire che se non è robare in casa all'altro non è rappare in casa mia mamma mia oh bella anche questa devo dire che fino adesso il disco sta andando meglio di quanto pensassi produzioni veramente belle sempre per gli standard che è un disco italiano ovviamente però bravi crookers ritornello molto molto bello forse fino adesso è il mio preferito dell'album perché proprio ti entra in testa traccia numero 7 bugie volete rap rap volete ma ecco fino a che per piacere a te non piaccio a me stesso la vita è un compromesso personalmente mi hai dato una mano a crescere un chiaro esempio di come non vorrei essere senza virtù si fanno figli con i vizzi ooooh con le bugie che ci inventiamo quando andremo a lontano da ciò che siamo a la famiglia vero che cazzo è già più interessante di interessarsi e cazzo tuoi senza rompere il cazzo agli altri è più sicuro te lo mettono nel culo nell'intimità di casa giusto dopo il benvenuto mi ero scordato di dire che questa era già uscita ma in tutta onestà non l'avevo mai ascoltata devo dire bella bella veramente piena di contenuto comunque un testo bello elaborato anche con un ritornello che l'aiuta a suonare meglio in tutto il suo complesso passiamo alla prossima 100k uh che beat sembra chi le lauro un'altra po' che ti rivedrò prati ho fatto un k poi 10k poi 100k tra se non ci credi per me o k neanche io ci credo entro nella hall con i miei bro in stanza faccio box insieme a mo fatti il resto per lo show giudico la strada da dove mi ha portato mi pento soltanto di quel che non ho fatto e sto firmando carte ma ne firmavo altre tra diventare grande o diventare un grande molto figa anche questa soprattutto per la produzione davvero on point carina carina la canzone parlo di tutto il suo complesso ci sta non la mia preferita ma sicuramente discreta in alcune parti non so perché ma mi ha dato un sacco a kill e lauro vibes passiamo alla prossima troia fit j lord dico amen che non voglio una pelliccia non c'è i soldi ma ogni tanto te li cago e tu i best hanno detto di non darla i tuoi ex sono dati che si basso e ti ho promesso che a giugno si va in vacanza che a luglio siamo ancora stesi in spiaggia sulla sabbia ragazza è qualcosa che ti rende perfetta per entrare negli obiancosì lo compagno e marito bis e poi sono assolto non avrei mai pensato che un pezzo intitolato troia potesse essere una canzone d'amore ma signori questo è il caso ma vogliamo parlare della produzione oh che figa che figa veramente finalmente qualcosa che va al di fuori dei soliti beat di plastica che si sentono ultimamente la canzone poi in generale è molto bella bella la strofa di massimo bello ritornello e anche quella di j lord che canta in napoletano bang bang ok io ne strappo tre ok ci sta non mi ha affatto impazzire ho preferito tranquillamente altre tracce del disco però non mi ha fatto neanche schifo un paio di barre mi hanno cringiato però niente di che passiamo alla prossima fumo fumo sincero la canzone nel complesso non mi ha fatto impazzire è una certa la storia secondo me diventa tra virgolette noiosa è uno storytelling questo l'ho apprezzato molto infatti anche nell'ultima parte della seconda strofa la storia si era fatta vincente volevo capire come andasse a finire quindi quello va bene però in generale anche questa non è tra le mie preferite la prossima traccia è beretta ho fatto la reaction vi lascio il link in descrizione così se volete sapere cosa ne penso vi guardate quel video di conseguenza andiamo con solo sex bello il tuo bello il tuo bello il tuo figo ritornello in particolare mi è piaciuto questo della canzone le strofe anche sono ok non so perché ho l'impressione che il ritornello sia ripreso da qualcosa mi ricordo una canzone americana specialmente il flow solo che non mi viene adesso nessuno in mente se la riconoscete scrivete uno nei commenti che mi date una mano passiamo a brebbia 2012 ma è stato un tipo normale bello il tuo sono io figo anche il ritornello questa credo che rientri tra le mie preferite dell'album bello il mood bello il beat anche in questo caso belle le strofe bello anche il ritornello mi è piaciuta tutta questa canzone sarò sincero passiamo all'ultima stupido mi guardo e penso tu sei stupido non sono unico e che sono l'unico amarsi in pubblico e lasciarsi subito e ti darò la caccia piangerò fra le tue braccia quegli occhi da cerbiate tutta la mia roba in faccia non so più che cosa fare da quando non ci sei molto malinconico molto malinconico figa figa anche l'outro devo dire bellissima scelta di cominciare con quell'intro e di chiudere il disco in questa maniera totalmente azzeccata anche in questo caso troviamo storytelling che secondo me è una delle caratteristiche e specialità più forti di massimo pericolo che dire dell'intero progetto sarò sincero mi ha sorpreso perché come vi ho detto nell'intro non avevo tantissimo hype nonostante lui come artista mi piace però alla fine poi la maggior parte delle canzoni mi sono piaciute e anche abbastanza facendo un piccolo recap quella da eliminare proprio che faccio finta che non ci sia e cazzo culo fit salmo poi ci sono debiti bang bang e fumo e ci metto anche beretta che non mi è piaciuta tantissimo appunto non mi hanno fatto impazzire e in generale non so se le riascolterò però per il resto il disco secondo me è davvero fatto bene quindi complimenti a massimo pericolo voi cosa ne pensate vi è piaciuto vi aspettavate di più cosa ne pensate dei fit fatemelo sapere qui sotto con un commento se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale se lo siete già attivate la campanellina condividete questo video con quanta più gente volete e potete noi ci vediamo ad un prossimo slè ciao